Enrico ben ritrovato, abbiamo sentito quelle che sono le strategie di Nicola, tutte di stampo rialzista, articolate come sottostanti, tu come inizi a rispondere, qual è la prima strategia che metti in campo, long o short? La prima strategia è una strategia long, quindi una carta verde. Una carta verde che ha come sottostante cosa? Il titolo Amazon e il motivo adesso te lo spiego, in realtà il discorso della rotazione settoriale che è stata fatta e secondo me se si ragiona in termini di indici è corretto e ci può stare, perché all'interno del Nasdaq ci sono veramente dei titoli che sono saliti tantissimo, vale per diverse realtà, vale un po' di meno secondo me per quelle realtà che sono estremamente performanti. Io devo dire la verità, non è un segreto che io sia un sostenitore di Amazon, ma anche di altre realtà tecnologiche molto molto capitalizzate, come se ti fang in particolare e di conseguenza sul titolo Amazon, secondo me il fatto che sia tornato in prossimità dei 3.000 dollari per azione, secondo me è un'opportunità perché l'azienda non sta facendo come detto più volte soltanto la distribuzione dei pacchi e dei servizi, ma in realtà si sta sviluppando con quella che è Amazon Prime, con quello che sono i discorsi di AWS che è Amazon Web Services, tutti quelli che sono i servizi in abbonamento, cioè Amazon oggi è un'azienda globale che il ritracciamento che ha subito nelle ultime settimane, negli ultimi mesi secondo me rappresenta un'ottima opportunità, quindi sotto i 3.000 dollari io non penso sia sbagliato mettere in portafoglio il titolo. Faccio un cappello che vale per tutte le strategie che ho proposto oggi, che è importante, sono operazioni di trading, quindi con stop e target abbastanza vicini, proprio per movimentare un pochettino quella che è la sfida. Ovviamente su Amazon il discorso, secondo me, visto che tra l'altro Benpeo offre dei prodotti open-end, quindi dei prodotti senza scadenza, può avere senso mantenerlo ben oltre quello che è il target, che io ho proposto. Ecco, allora dacci i livelli. Allora il livello d'ingresso è 2.995, il nostro stop loss lo posizioniamo a 2.905 euro e il target a 3.095, come detto appunto secondo me Amazon potrebbe crescere ben di più rispetto a tali livelli ma come ti dicevo insomma abbiamo necessità che questi trade, anche in virtù del fatto che c'è la leva, vadano a target o in stop. Ecco, peraltro mi ricollego alla scelta della sottostante che hai fatto Amazon, ecco che per chi vuol operare, che quindi non vuol cavalcare la storia nel lunghissimo periodo, ma vuol trarre beneficio dai movimenti di borsa, delle quotazioni della società fondata da Jeff Bezos, ecco che probabilmente i Turbo Certificates rappresentano la soluzione migliore perché a fronte di un valore di 3.000 dollari, sto evidentemente arrotondando per ogni singola azione di Amazon, ecco che si può andare a sfruttare i movimenti con cifre anche consistenti o se fossero maggiori comunque riuscire a calibrare meglio anche quello che è il rischio generale di tutto il portafoglio, tra quello che è il portafoglio core e il portafoglio dedicato al trading. Allora una prima strategia risalzista è all'interno di questa settimana la sesta carta su sei che tra trader e analisti viene data al rialzo, confermi long anche la tua seconda carta? No invece io questa settimana ho voluto puntare prevalentemente su carte rosse quindi ti do questa spoilerata e in realtà quindi è uno short sull'indice italiano, sul Fuzzimib. Uno short sul Fuzzimib non è la prima volta che hai una visione molto positiva sui mercati azionari meno su casa nostra, perché? Sì, è lo stesso discorso che abbiamo fatto precedentemente, anche Nicola ha detto giustamente il DAX è l'indice europeo più forte, in realtà io ho visto come sia nella giornata di ieri diciamo dall'inizio della settimana il mercato italiano abbia performato molto molto bene e in particolare, questo è avvenuto anche sul comparto bancario che era stato penalizzato per diverso tempo, bene la mia valutazione in questo senso è che ci troviamo di fronte ad un eccesso, sono stati rotti diciamo i massimi di periodo, insomma quelli che erano stati segnati qualche tempo fa e di conseguenza io penso che in questa fase ci potrebbero essere delle prese di beneficio su molti titoli facenti parte del paniere che comunque è stato spinto da diverse aziende all'interno del paniere stesso e quindi ci può stare in un'ottica di trading e quindi non in un'ottica, diciamo che io non sono ribassista in generale sulle borse però in un'ottica di trading se dobbiamo guardare a un orizzonte temporale da qui a una decina di giorni è un tipo di operatività che mi piace perché mi dà la possibilità di vendere un mercato laddove è salito tanto e potermi quindi poter prendere e avvantaggiarmi da quello che potrebbe essere un ritracciamento assolutamente fisiologico e non diciamo legato a nulla di particolarmente drammatico, questo lo voglio segnalare. Dici allora i livelli? Allora i livelli che ho selezionato per voi sono un ingresso a 23.850 punti che peraltro è il livello che stiamo battendo in questo momento quindi siamo proprio in prossimità di tale livello, lo stop loss lo mettiamo a 24.150 punti quindi appena sopra quella che è la soglia psicologica dei 24.000 punti, il nostro target price con i medesimi rapporti diciamo di rischio rendimento lo mettiamo a 23.550 che di fatto è sotto dei livelli di supporto che erano stati toccati precedentemente quindi possibile che se dovessimo raggiungere quel livello potrebbe esserci uno scivolone un po' più importante, niente comunque di compromettente, niente di estremamente grave. Un long, uno short, terza carta, verde o rossa? Terza carta ti faccio ridere perché è una carta verde e nello specifico è su Euro-Dollaro, la cosa interessante è che ho selezionato il medesimo livello di ingresso del mio amico Nicola quindi vuol dire che abbiamo avuto la medesima view, quindi adesso ti do le mie valutazioni come detto in precedenza io penso che in generale è vero che ci sono stati acquisti sul dollaro in realtà ci sono nelle ultime settimane però la mia view, quella che ti avevo riportato tempo fa sul fatto che secondo me Euro-Dollaro è destinato ad andare ben oltre il livello di 1,20 e anche ben più in alto non è cambiato assolutamente, anzi quelli che sono stati gli storni che abbiamo visto in questa fase sono delle ottime opportunità per acquistare Euro-Dollaro contro-Dollaro e quindi il mio trade diciamo rispecchia quello che abbiamo visto nelle settimane scorse che peraltro se non ricordo male sono già andato a target qualche volta o una volta Ti confermo che sei andato a target già su Euro-Dollaro, vedevo due cose che hai selezionato dei turbo open-end sia sul nostro Fuzzimib che su l'Euro-Dollaro ma proprio sull'Euro-Dollaro hai aumentato la leva in un modo interessante il perché ce l'avevi già spiegato altra volta perché comunque il mercato valutario ha una volatilità inferiore rispetto ad altri asset classi quindi permette di calcare passatemi un po' il termine la mano su fronte della leva. Sì assolutamente se vogliamo diciamo riprendere un esempio che abbiamo visto precedentemente come ho visto Nicola ha parlato del petrolio ecco il petrolio può avere delle oscillazioni nell'ordine dei diversi punti percentuali nell'arco della medesima giornata Euro-Dollaro è difficile che si muova oltre il 2 per cento quindi in realtà i movimenti giornalieri sono inferiori all'1 per cento quindi è normale che soprattutto nel momento in cui andiamo a mettere uno stop nell'ordine dei cento pips possiamo tranquillamente andare a utilizzare uno strumento con una leva di oltre dieci volte insomma perché... Dici i livelli Enrico allora? Allora i livelli che ho selezionato per voi l'ingresso appunto è assolutamente in linea con quello che ha selezionato Nicola ed è a 1,1880 livello molto molto vicino ai prezzi attuali e secondo me appunto potrebbe entrare questa operazione. Lo stop loss l'ho messo leggermente più in alto a 1,1815 quindi ho cercato di tenere lo stop loss leggermente più stretto il target a 1,1950 quindi anche il target invece rimane più ravvicinato secondo me appunto questo è un trade che ci può stare tranquillamente se volete utilizzare un Turbo Open End quindi un prodotto senza scadenza questo a livello diciamo di mia considerazione macro io penso che comunque euro dollaro sia destinato a crescere quindi non mi fa assolutamente paura la rottura del livello di 1,20 quelle che sono le mie previsioni diciamo sul medio termine sono di un apprezzamento appunto dell'euro nei confronti del dollaro. Ci hai anticipato prima che avresti dato delle carte rosse quindi mi vien da dire che visto che due su tre finora sono state a rialzo ci attendai una carta rossa. Assolutamente sì. E su cosa è? La carta rossa di che mi gioco come carta quarta 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 carta è su Intesa San Paolo quindi ho visto come i prezzi siano volati qui il discorso è analogo a quello che abbiamo visto su sul Fuzzimib in realtà sul titolo Intesa San Paolo ci sono stati degli eccessi ancor più forti e di conseguenza io voglio vendere in attesa di quello che potrebbe essere un ritracciamento di breve anche qui stop e target sono abbastanza stretti quindi non mi aspetto assolutamente che Intesa San Paolo torni a 1,50 euro o giù di lì ma in realtà voglio fare un'operazione per andare a sfruttare quello che potrebbe essere un ritracciamento di brevissimo. Se vuoi ti do il livello. E allora fornici esatto i livelli di questo short su Intesa San Paolo. Allora per quanto riguarda il nostro livello di ingresso abbiamo selezionato ecco che esce la carta il livello di 2,30€ lo stop loss lo mettiamo a 2,45€ per quanto riguarda il target 2,15€ ti segnalo due cose il livello di convinzione comunque basso rispetto alle altre carte che ho giocato ho messo soltanto due stelle perché diciamo è un'operazione sicuramente contro trend sicuramente la una delle più rischiose che ho proposto e di conseguenza è un tipo di operazione che diciamo si può fare ma attenzione perché il rischio è dietro l'angolo quindi soltanto due stelle di convinzione a differenza diciamo delle altre strategie che ne avevano di più. Se la matematica non è un'opinione Enrico visto che la maggioranza delle carte erano al ribasso la tua ultima carta sarà rossa. Assolutamente sì un'ultima carta rossa questa volta sul Nasdaq quindi sono d'accordo con quanto detto precedentemente quindi che è una piccola retorazione settoriale ci potrebbe essere che i prezzi delle azioni sono comunque importanti quindi sono arrivati su dei livelli significativi in questo momento il Nasdaq è l'indice più venduto sarà perché ci sono titoli che hanno perso molto penso a Tesla penso ad altre realtà però in questo momento diciamo è un indice che è più debole rispetto ad altri. La cosa però non va in antitesi con quanto detto su Amazon perché io ritengo che Amazon sia uno dei migliori titoli all'interno diciamo del paniere di conseguenza come prima carta mi sono comprato Amazon e mi sta benissimo comprare Amazon a 3.000 dollari ed è un discorso diciamo legato a quelle che sono le aspettative che io ho nei confronti dell'azienda all'interno del Nasdaq come sapete il formato invece da 100 titoli non c'è soltanto Amazon ma c'è anche dell'altra roba ecco le altre aziende facendo parte del paniere molte secondo me hanno delle evoluzioni eccessivamente elevate e di conseguenza ci potrebbe stare tranquillamente un ritracciamento ritracciamento di breve che potrebbe arrivare dall'America e quindi poi rivaltarsi per far andare a target speriamo le strategie arrivasse su Intesa San Paolo e sul Fuzzimib perché come sapete comunque le borse sono correlate quindi se io una BVU da qui a 10 giorni tendenzialmente di un mercato debole ce l'ho sia su Intesa San Paolo che sul Fuzzimib che ovviamente sul Nasdaq quindi il movimento partirà dall'America sicuramente. Vai a ribasso da questi livelli o se ritorniamo un attimo sul grafico anche a 60 minuti sembra che si sia venuto a completare un pattern di inversione rispetto ai recenti ribassi quindi vai short in prossimità degli attuali valori del Nasdaq o ti posizioni più in alto? Leggermente più in alto se vogliamo vedere i valori che io ho inserito a differenza magari delle altre carte dove i livelli sono un po più prossimi rispetto a quelli di mercato in questo caso ho atteso il livello di 12.805 che secondo me rappresentava un'area di resistenza interessante del di breve ovviamente sempre di breve e quindi attendo che venga raggiunto tale livello per per vendere quindi non prima aspettiamo che diciamo tutto il movimento rialzista di brevissimo si esaurisca. Perfetto Enrico 18 e 22 di questo martedì 9 di marzo abbiamo concluso con le cinque carte che metti sul mercato in rappresentanza della squadra degli analisti ti ringrazio per essere stato con noi ovviamente martedì prossimo andremo a fare il punto su come sono date le tue strategie intanto ti auguro buona serata e buon trading buona serata a voi